Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti se è la prima volta che siete su questo canale parliamo di profumi. Un video che deriva dal caso, una novità in casa a Bulgari che non sapevo neppure fosse uscita. Adesso vi racconto, andiamo. Prima di cominciare però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanellina così rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Nulla, semplicemente vi racconto com'è andata. Stavo facendo una passeggiata e sento la necessità, il bisogno di aggiungere alla mia collezione personale alcuni profumi da donna, tra cui alcuni Narciso Rodriguez, uno Chanel che mi mancavano, che mi sono sempre piaciuti e che io fondamentalmente voglio utilizzare non solo per averli nella mia collezione ma anche per farli vedere nei nei video alle ragazze che mi seguono. Ma mentre acquisto, che sono alla cassa, praticamente mi viene detto, dato che ne avevo presi tre o quattro di profumi, mi viene detto che c'erano due novità che ancora non erano uscite. E allora gli chiedo quali sono queste novità. Bulgari Man Rain Essence, di cui non ho sentito assolutamente parlare, e un nuovo Narciso Rodriguez che si chiama For Air Forever. Li prendo entrambi. Nessuno dei due ancora li ho aperti, dato che il mio fondamentalmente è un canale, sì, seguito anche da donne, ma principalmente da uomini, ho deciso di fare la first reaction, o comunque una piccola reazione alla fragranza su YouTube per quanto riguarda Rain Essence, e invece farò un video, prima impressione, su altre piattaforme, invece su quello da donna, dove sono decisamente più seguito anche dalle ragazze. Quindi, Bando alle ciance, è un profumo di Alberto Morias, me lo sono andato a vedere su Fragrantica velocemente, dovrebbero esserci note di tè, di arancia in testa, un leggero accordo di fiori e poi sul fondo nemmeno mi ricordo. Ma non ci interessa assolutamente, sentiamo il profumo. Allora, io non sono un grande fan della collezione Bulgari, dico la verità. Sia per quanto riguarda il Bud Essence, non sono un fan, non sono un fan nemmeno del Glacial Essence, assolutamente, non sono un fan nemmeno del Terra Essence, e adesso vediamo questo Rain Essence. Non mi aspetto nulla di che, so che questi sono profumi, diciamo un po' così, buoni per carità, però che passano molto velocemente, ok? Che non rimangono, perché la maggior parte delle fragranze iconiche non fa parte del mondo Bulgari. Anzi, Man in Black sì, lo è, una fragranza che è entrata un pochino nell'immaginario di tutti, con una fragranza iconica, anche se per me non lo è. Iconica per me perché ci ho fatto due o tre anni della mia vita, ma quella fragranza davvero non la consiglio di acquistare a nessuno, perché sembra durare tantissimo, ma in realtà dura pochissimo. Quindi non ci siamo, non ci siamo. Quindi questo è un video fatto così, di botto, di getto. Andiamolo a sentire e vediamo, con la moglietta di Alex Plus. Sì, è un'eresia, ma glielo concediamo, dai. Ok, ok. Beh, l'apertura è buona. È buona e... Beh, come pioggia potrei dire che ci ispiriamo un pochino a una, più che altro, a una leggerissima pioggerellina in piena estate. Perché sì, forse un accordo leggermente acquatico-minerale lo si ritrova, ma c'è un odore riconoscibilissimo di tè e arancia. È molto buono. In pieno stile Alberto Morillas, questi profumi freschi qui così gli escono benissimo. C'è poco da dire. È buono, lo spruzziamo su pelle e vediamo. Buono. Molto, molto gradevole, fresco, rinfrescante. Ha una sua struttura. Ecco, rispetto al Glacial, questo mi piace molto di più dall'inizio. Stiamo parlando di un profumo decisamente più complesso, anche se vogliamo. Anche se non è la parola giusta, complesso, perché non è un profumo difficile assolutamente né complesso, ma è più articolato. Mettiamola così, del Glacial Essence che invece era semplicemente un fresco un po' banale anche. Sarà che forse ci sento un fondo leggermente più presente. Devo vedere un attimo, devo vedere le note di fondo. Ok, ho appena visto le note ed è un perfetto profumo super molecolare, tra virgolette, moderno, perché abbiamo legno di guaiaco, abbiamo muschi e ambra minerale. Che cosa significa ambra minerale? Sono i nuovi accordi di legni ambrati che anch'io ho utilizzato all'interno di Salvia Plus, che riescono a donare molta longevità al profumo, riescono a dare un aspetto minerale molto molto forte e freddo, ghiacciato. E lo ritrovo anche qui. Anche se chiaramente non possiamo paragonare Salvia Plus con Bulgari Renaissance. Detto questo io faccio passare 10-15 minuti per capire come evolve su pelle e ci ritroviamo qui fra un attimo per voi per le considerazioni finali. Eccoci qua Popolo Profumato, sono passati almeno 25 minuti e lui è ancora qui bello stabile. Unica cosa che ho notato da subito è che, ok, ha buone, secondo me, possibilità di essere un profumo fresco con buone performance. Ma c'è un ma, si stabilizza tantissimo su questa ambra che vi dicevo, il legno di guaiaco. Non c'è una grande evoluzione. Dopo dieci minuti era così, o cinque, era così e così è rimasto e così rimane. Non si smuove da lì. È un profumo fresco, legno di guaiaco, questa sensazione molecolare di ambra minerale. Comunque è un buon profumo. Cioè, tra quelli che ho sentito di Bulgari, questo, per quest'estate, secondo me, è da considerare. Specialmente se vi piacciono quei profumi freschi che però vi possono accompagnare per un po' più di ore, d'accordo, durante la giornata. Da considerare. Non mi dispiace affatto. Ha quell'accenno mascolino, secondo me questa nuova generazione di accordi ambrati minerali tende un pochino verso il mascolino. Io ne ho usato tantissimo di accordo all'interno di Salvia Plus, che secondo me è un pochino il capostipite di questa... Beh, ragazzi, per adesso lo stanno usando questo accordo di ambre, diciamo, i centellinando. Io invece ho voluto strafare. In Salvia Plus ne trovate tantissimo. Ecco, diciamo che qui è appena accennato. Comunque, come profumo non mi dispiace, da sentire, se vi trovate in un Sephora, spruzzatevelo sulla pelle e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. È uscito da otto giorni, quindi magari lo troverete fra qualche giorno sui scaffali di tutte le profumerie. E tutto questo, ragazzi. Novità bulgari. Brain Essence. Mi è piaciuto? Da sentire. Assolutamente. Non è banale. Non è banale. Anche se lo diventerà fra qualche anno, perché queste molecole sintetiche stanno prendendo sempre più piede. Ci vediamo al prossimo video. Popolo profumato. A presto.